L'architettura non può essere presa seriamente perché non contiene sviluppo tecnologico, in genere la funzione è un pretesto. Da sempre essermi attenuto a un principio che è quello della reversibilità, di non aver mai pensato di far qualcosa per sempre. Dobbiamo smettere di occupare lo spazio nel mondo, specie lo spazio che attualmente è libero. Bisogna al massimo rioccupare uno spazio demolendo. Io sono molto d'accordo a demolire, non a conservare. A casa è nata semplicemente, abbiamo preso questo rudere, che era una fabbrica di palle di Natale. Poi per un certo tempo è stata la prima galleria di De Carlo, per cui è un luogo che aveva accumulato sequenze molto particolari. Infatti non abbiamo mai messo quadri, non ci sono quadri in casa, opere d'arte, proprio perché c'erano già stati. La biodiversità culturale viene di più dall'esperienza del viaggio, del flaneur, di qualcuno che viaggiando accumula. Gli oggetti sono tanti e cambiano col tempo, perché in genere sono delle collezioni provvisorie o istantanee che metto insieme perché ha un interesse. Con molta semplicità potrei definire per me la visionarietà oggi di costruire utopie che ci possiamo permettere.